...volume, effettivamente... Allora, ci siamo! Che ora è? C'è passato un'ora! Oh no! Oh no! Ever Crisis! Ever Crisis! Genesis! Ancora non conosciamo Sephiroth. Quello è Ocho, tra l'altro. Ever Crisis! Parte da Crisis Core. Quella era la parte della giovinezza di Sephiroth, però... Questa è Zacca con i vestiti. Tifa in Crisis Core. Sono belli i vestiti di Genesis. I vestiti gaccia sono bellissimi. La Battle Tower. Ah, c'è proprio la bella scalata verso il miliardo. Questa è cosa? The First Soldier. Ok, sì. Il già è più bello di The First Soldier. Questa è tutta nuova. Perché è di The First Soldier? The First Soldier non aveva storia. Chi è? Chi è? Ma chi è? Chi era? Ma chi era? Partono adesso le pre-registrazioni. Quindi potre... Ecco, beta test. 8 dal 28 giugno su Android. 8 giugno è oggi? Sì. Oh, signore! Eh? Eh? Ah, cagare Jeff! Che stronzo! Ah, dove ha? Ah, ok. Ah, ok, ok. Eccoci. Ok. Kojima. Oh signore Midgar Noi si Midgar Gaia Oh signore Final Fantasy E Rebirth No It's true No raga Eccolo Rebirth Chi è que Barret Tifa Red Perché sono tutti morti The non journey continues Oddio mio figlio Questo è quando escono da Midgar O no Tipo il mondo Oh la febbre mi sta salendo Oh mio Dio Sì esplorazione Open map Oddio questa mappa Chocopo farm Chocopo Chi è che sta parlando Siamo separati Che sta creando Red è decisivo giocabile Red giocabile Elena Rude Rude Rene 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 Un momento Barret e Red Rene sono loro due Che meraviglia Queste sono gli incontri casuali Genova Genova Un'altra versione di Genova No quelle ufficiali adesso possono essere E' Cloud Il flashback Il flashback in Evil I'm with me Se era la nave era giusto No Aspetta No Aspetta Due dischi Su PS5 Due dischi Non ci sto credendo Mizzore da sentirlo in giapponese Da vedere le differenze Ma c'è scritto Erle 2024 Giusto? Erle 2024 Io che avevo detto all'inizio? Io cosa ti ho detto? Ti danno solo il periodo 2024 Ah signore Due dischi No io Io non c'è No Riusciamo a lasciarlo al sottofondo Per il Day of the Dance?